ciao ragazzi come state benvenuti in un nuovo video oggi noi facciamo una passaggiata molto classica in monte tamaro ma noi parteremo e dall'alpe di neggia e quindi partiamo un po' di neggia e quindi partiamo un po' di neggia e quindi partiamo e quindi partiamo ed ecco un po' cosa ho trovato un bellissimo ghiacciolo molto freddo però bello e quindi partiamo e quindi partiamo ed eccoci qui arrivati in cima alla croce era molto bello però è che sto girando quindi è ora di scendere e ragazzi comunque in questa passaggiata verso le 10 ho visto che sono arrivato 100 iscritti 101 quindi grazie mille e quindi partiamo un po' di neggia e quindi partiamo un po' di neggia e quindi partiamo e quindi partiamo e quindi partiamo ed eccoci qui arrivati a casa nostra dopo questa escursione meravigliosa in questa passaggiata abbiamo visto una vista meravigliosa e del basso ceneri e del sopra ceneri abbiamo visto anche il monte rosa che è una montagna molto grande qua in Svizzera e in pallese volevo ringraziare quelli che mi hanno aiutato e che mi hanno fatto arrivare a 105 iscritti grazie mille che siete migliori e vi auguro un buono 2021 e che sia bello e l'avete iniziato con belle feste e ciao ciao e ci vediamo nel prossimo video in aprile ciao ciao